Sindaco, i Terramani hanno pensato per anni che pagando di più sulla tassa per i rifiuti avessero poi un servizio migliore, forse così è stato. Adesso come fate a fargli capire che bisogna fare marcia indietro? Non mi sembra che sia questo l'ordine delle idee, perché i Terramani sono due anni che pagano meno, forse questo è sfuggito. Lo scorso anno c'è stata una riduzione della Tari, che è andata dal 7 al 25% per le attività per le industrie, quest'anno c'è un'ulteriore riduzione che è una forbice che va dal 5 al 15-16%, quindi sono due anni che i Terramani pagano di meno. Bisogna fare ancora di più e bisogna ridurre ancora di più i costi del servizio partendo dai costi fissi, quindi la realtà è un'altra e non lo dico io perché qualche giorno fa è uscita una nuova classifica dei comuni per quanto riguarda la IUC che è a metà classifica, mentre fino a qualche anno fa era ai primi posti. Uno dei problemi principali che in questi anni ci sono stati a Terramo è stato quello di chi abbandonava i rifiuti per strada. Ecco, pensa che questa riduzione nella raccolta possa acuire questo problema? Ma non è una riduzione nella raccolta, è un'ottimizzazione della raccolta, perché il fatto che si passi da tre volte a due volte l'organico è che se si differenzia bene non c'è bisogno di farlo tre volte. Tra l'altro, se uno ha la voglia di andare a vedere tutti i comuni, quelli più virtuosi dove si fa la raccolta differenziata, si accorge che in tutti questi comuni l'organico non passa più di due volte a settimana. È chiaro che nei primi anni si era deciso di farla passare tre volte perché era in una fase di implementazione. Adesso che siamo in una fase, come dire, di oramai attività definita, è sufficiente due volte. Ci sono degli intoccabili nella sua giunta? Non ci sono intoccabili, perlomeno per me non ci sono intoccabili. Bisogna dimostrare affidabilità, bisogna dimostrare di voler portare avanti un discorso politico che i cittadini e amministrativo, che i cittadini ci hanno dato lo scorso anno a giugno, perché di questo ci dobbiamo ricordare.